pronti allora andiamo a beccare la lista ma quanti siete? copia colla salutiamo tutti prima di... ciao a tutti ok diamo una controllatina di nomi ok ultimo william lucino primo ago serafini william lucino ago serafini siamo con il primo random datemi il via 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 e pronti per l'ultimo datemi via via complimenti ad Alessandro Rosario affinito ma è una gioia ma questo non è quello che ha vinto la box di nuovo quando l'ho messa in coso allora eliminalo no e questo porta più 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 se più posteriore che altro no non è possibile fatti dire dove abita e gli va da toccare il culo no no e questo ma sai che c'è l'uomo che ha creato l'uomo ma non ti può dire che non gli vuoi bene non è che è un parente tuo Davide non è che c'è un altro nome suo Sara bravo complimenti a vincitore di nuovo eh si autospedisce le cose Davide eh si autospedisce le cose è un altro tuo profilo quello dire la verità no 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 e questo questo sta su un gruppo che con Riccardo abbiamo non voglio fare nomi di gruppi abbiamo parlato l'altro giorno di un tipo che abbiamo litigato una casa e niente dai va bene così ciao a tutti ragazzi buona serata ciao ciao noi che abbiamo assistito ci accontentiamo anche